Continua l'ondata di furti a Polla. Questa volta, ed era già capitato in passato, i ladri hanno portato via del gasolio da diversi autoveicoli, soprattutto da mezzi pesanti. Almeno due colpi messi a segno nei giorni scorsi. In un'occasione i ladri sono entrati nella sede di un'azienda di trasporti, passando per alcuni terreni incolti e hanno prelevato del carburante da alcuni pullman parcheggiati. Un danno minimo, ma è stata presentata denuncia ai carabinieri della stazione di Polla, anche perché, a prescindere dal danno, è stato un furto fastidioso per quanto riguarda l'azienda di trasporti. Altro colpo simile è stato poi registrato in un parcheggio di un ristorante dove erano posteggiati diversi mezzi pesanti, ancora quindi un furto di gasolio. Nelle scorse settimane si erano registrati episodi simili, sempre a Polla, sempre nei parcheggi di ristoranti o hotel. E sempre a Polla, ricordiamo, hanno rubato in diverse case delle anfore, piedi antichi o altri oggetti in rame. Diverse le indagini e le denunce, secondo quanto è emerso, ci sarebbero dei sospetti da parte delle forze dell'ordine. Sta indagando con l'ausilio delle telecamere che sono posizionate nel comune di Polla.